LORENZO Noi lo sappiamo che tu non volevi fare del male a Lorenzo Però ci vuoi dire perché l'hai fatto? Preside è inutile continuare Maria non lo vuole dire Quelle sono cose tra bambini A me sembra proprio che lei non se ne renda conto Qui c'è un bambino che si è lussato una spalla L'abbiamo dovuto portare in ospedale E quindi cosa fa? Non ci scordiamo che la bambina è già monitorata dai servizi sociali Lo sa c'è No, 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 no Le fanno, capite? Non lo faccio più con te No, ma tu non sei bene a fare niente Tu la mamma non la sai fare Io mica rischio di perdere il mio lavoro per fregare a voi Le truffe non sono state mai Io non le faccio queste cose E se succede qualcosa io la risolvo sempre Vuoi sentire una canzone famosa del mio paese? No 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 No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 No, no, no No, no 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 No